Cominciamo allora dalla riete. Giornata davvero impegnativa, caratterizzata da ritmi intensi e faticosi. Cercate di non distrarvi e affrontate ogni questione con la massima attenzione e con impegno costante. Toro, se avete una relazione sentimentale in corso, attenti a non essere troppo assillanti con il partner. Correte il rischio di divenire insistenti e quindi irritanti. Gemelli, niente male davvero alla giornata che vi aspetta, che condurrete all'insegna della vita di relazione e dei vostri interessi personali. Gli impegni della giornata sono numerosi, ma non per questo rinuncerete a qualche momento tutto per voi. Cancro, oggi avete un potenziale creativo straordinario, in parte fornito da madre natura, in parte amplificato dal cielo sopra di voi. E la creatività potrà davvero essere la vostra qualità vincente. Leone, giornata grigia, sembra tuttavia che non ci siano ragioni per il vostro malumore. Il lavoro va bene, la salute è buona, forse è il denaro il tasto dolente. Ma non dimenticate mai che i soldi non sono tutto nella vita di una persona. Vergine, credete in voi stessi e riuscirete a realizzare ciò che desiderate. Facendo domestiche, lavoro, investimenti filano con il vento in poppa, rinfrancati da belle novità. Bilancia, c'è un grande fermento nel vostro cielo. La giornata è all'insegna dell'ambizione. Coraggio, avete la forza necessaria per raggiungere un importante obiettivo. Scorpione, cielo magnifico. Una ventata di ottimismo vi mette di buon umore. Complice il benessere interiore, il contatto con la natura, la famiglia e gli amici. Siete degli zuccherini oggi. Sagittario, se non vi sentite all'altezza di compiere una certa azione, riordinate le idee al riguardo e vedrete che il nuovo pensiero vi guiderà in modo infallibile verso la realizzazione. Capricorno, basta un pizzico di buonsenso, una buona idea, il suggerimento di un amico per risolvere situazioni delicate e rimettere ordine nel caos. Con il partner in questo momento siete dolci come il miele. Acquario, le stelle oggi vi remano contro, ma i loro effetti fortunatamente sono blandi. Non va bene delegare al partner ogni decisione e naturalmente anche ogni incombenza. Pesci, momento adatto per evadere dalla routine. Continua la serie di incontri avvincenti nei quali sfoderare tutto il vostro sourfair e godete anche di una grande popolarità. Nel lavoro siete interessati a un cambiamento di situazione.